invito grazie dice il ragazzo coinvolto semi coperto da una maschera eccolo guillo lo sfila dalla profonda scollatura del suo vestito striminzito e glielo porge potete entrare eccovi le maschere da indossare il ragazzo ce le porge e prima di barcare l'ingresso le indossiamo mi sento alquanto a disagio con l'abito che ho dovuto indossare il colpetto nero sembra togliermi il respiro da quanto è stretto e la gonna se tale si può definire mi copre appena metà coscia per non parlare di tacchi vertiginosi che continuano a incastrarsi nei ciottoli del pavimento perché non potevamo scegliere noi come vestirci domando mentre ci avviciniamo a uno dei tavoli in cui servono da bere perché ogni festa è a tema e se vuoi parteciparvi devi sottostare le loro regole spiega guillo versandosi una generosa dose di champagne immagino che tu ti riferisca ai divini commento mi mando le virgolette a mezz'aria esatto vedo che inizia a capire replica porgendomi un calice io nel frattempo mi guardo attorno a quello che un tempo doveva essere senz'altro un antico fienile luci dorate sono appese al soffitto vecchi tavoli sono adibiti per i rifornimenti alcolici altri sono utilizzati come cubi sui quali poter ballare mostrando a chi sta sotto il colore della propria biancheria intima ovviamente per chi lo indossa alcuni sofà in stile vittoriano sono disposti ai lati di quella che ha tutta l'aria di essere la pista da ballo ed è mentre mi guardo in giro che i miei occhi crollano su di loro seduti su uno dei divani con attorno più ragazze di quante se ne possa immaginare qualcosa si smuove dentro di me è come una lama che mi lacera l'anima più e più volte nel momento in cui vedo tristan strizzare i sederi di una delle ragazze che gli si sta strusciando addosso senza ritegno e questa sarebbe una festa commento sperando di riuscire ad andarmene il prima possibile non fare così sono certa che ci divertiremo devi solo scaldarti un po' propone porgendomi un altro carice di champagne se vuoi che mi scaldi credo che avrò bisogno di qualcosa di più forte rovescio quella brodaglia in uno dei grandi vasi agli angoli della sala e mi dirigo verso uno dei ragazzi posizionato dietro a un lungo tavolo rettangolare vodka grazie dico sporgendomi verso il ragazzo per sovrastare la musica che con prepotenza rimbalza contro le pareti sei harper domanda lui porgendomi il bicchiere come fai a saperlo semplice intuizione replica lui guardati attorno gattina sei l'unica vestita di nero sussura al mio orecchio una voce calda graffiante che sento rotolarmi fino in mezzo alle cosce e non è di certo un caso aggiunge facendomi voltare di scatto verso di lui quindi sei stato tu a scegliere l'abito per me pretendo di sapere annegando in quelle pozze grigio azzurre come il ghiaccio le sue mani scivolano sui miei fianchi e una scarica elettrica mi pervade da capo a piedi strappandomi da questa realtà e inavissandomi in quel passato del quale entrambi abbiamo fatto parte quello in cui eravamo qualcosa qualcosa che non si poteva definire a parole perché forse ne dovevano ancora inventare quelle adatte a descrivere quell'amore così contorto struggente ma sano pericoloso sì spero che ti piaccia dice tristan dondolando su se stesso e strusciando il suo corpo possente contro il mio in quello che sembra essere un ballo lussurioso sì proferisco a corto di fiato mentre mi sento sciogliere dal suo tocco è lava bollente fuoco incandescente inferno le sue mani si intrufolano sotto la mia gonna e le sento lì al centro del mio desiderio che cresce inizia a consumarmi riducendomi in pezzi oh sì è esattamente questo che volevo vedere la tua espressione mentre ti faccio godere l'ho sognata così tante volte in questi anni ringhi al mio orecchio per poi catturarlo tra i denti e torturarlo nello stesso modo in cui le sedite iniziano a suppliziare la mia intimità già bagnata mi guardo attorno ma sono tutti troppo impegnati a ballare a ubriacarsi per rendersi conto di quello che sta succedendo tristan il suo nome sfiora le mie labbra come una supplica al tempo stesso lascio rovinare al suolo il bicchiere che tenevo in mano e mi aggrappo con possesso alle sue spalle possenti cosa c'è gattina vuoi forse di più domanda mentre le sedite scivolano nella mia fessura ma restano lì ferme facendomi sentire come sul bordo di un precipizio sì voglio te dico tutto d'un fiato senza rendermi conto del peso di quelle parole senza pensare come le stesse siano state in grado di distruggerci sai che c'è ghigna allontanandomi da lui con una spinta nel preciso istante in cui la musica si ferma e tutti gli occhi dei presenti sono puntati su di me preferirei farmelo tagliare piuttosto che darlo a te aggiunge piegando le labbra carnosi in un sorriso sbieco qualcuno applaude quando mi volto vedo jasper in piedi su uno dei divani signore e signori dice in maniera teatrale accompagnando quelle parole con un vistoso inchino vi presentiamo arper lexi la nuova arrivata all'arlington prep academy le lacrime mi pungono agli angoli degli occhi il corpo trema come una foglia che sta per essere spazzata via da un vento impervio mentre tutti scoppiano in una fragorosa risata ci tenevo a darti personalmente il benvenuto all'arlington prosegue tristan mentre io non riesco a muovere un solo muscolo è come se fossi una statua di sale e lui il sole che continua a immobilizzarmi senza che io possa farci niente